L'ho inventato, spinto da un mumbling di Luca su una melodia che si era fatto venire in mente per qualche strano motivo e io ho costruito una storia che secondo me è molto bella e ho voluto dedicarla a lui e soprattutto alla sua bellissima moglie con la quale oggi c'è una grande riconvenenza di più parlare Allora, questo è lo 0-2-0-2 che quest'anno è data palindroma ma noi qualche annetto fa l'avevamo scelta perché ci piaceva 0-2 data, eravamo in 2 e 0-2 poi gli altri due sono arrivati e quindi la dedichiamo anche a loro Non è detto assolutamente che sì È una persona molto riservata ma lei ha capito, chi doveva capire ha capito Grazie a tutti 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 Grazie a tutti